Un'aggressione sabato 18 febbraio nei confronti di alcuni studenti del liceo Michelangelo di Firenze e un episodio analogo avvenuto pochi giorni prima al liceo Pascoli, sempre nel capoluogo toscano. Ferma la condanna a quanto avvenuto, solidarietà dunque agli studenti vittime di episodi di squadrismo e vicinanza al corpo scolastico. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata dal gruppo consigliare del PD, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli. L'atto che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle è stato approvato con 22 voti favorevoli, 4 ostenuti e del gruppo Lega. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un aggressione squadristica, di stampo neofascista. Quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta. Invitiamo la regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio. La Toscana è una regione che ha nel suo DNA l'antifascismo, quindi credo che a maggior ragione ci debba essere, se possibile, un rafforzamento dell'attività di carattere proprio culturale. Chiediamo anche ai due ministeri, quello dell'interno e quello della pubblica istruzione e del merito di intervenire perché sia garantita l'incolumità nelle scuole, perché è veramente difficile da pensare che i ragazzi che vanno a scuola possono essere aggrediti con questa violenza. Inoltre esprimiamo ovviamente la più grande solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e anche un plauso all'insegnante che invece è intervenuto per cercare di sedare questa aggressione. Tutti condannano gli atti di violenza ed esprimono solidarietà. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla regione di Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale e ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti, intervenuti, al corpo docente. Ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea. Sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti dei propri gruppi giovanili. Perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico perché era già avvenuto in un'altra scuola. Arrivare da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte ma sicuramente le forze politiche e lo sappiamo non la loro responsabilità. Il tentativo era stato quello di fare un atto unitario di tutto il Consiglio corale ma purtroppo non è stato possibile perché vi è stato il tentativo di diluire in una condanna di ogni tipo di violenza, di qualunque matrice, condanna peraltro sempre possibile e da tutti condivisa, la condanna dei fatti specifici di Firenze della settimana passata. Di fronte a questo il Partito Democratico ha fermamente ribadito come sia necessario di volta in volta a condannare l'episodio di cui si sta parlando e che questo sarebbe tanto più necessario quando gli autori della violenza sembrano essere militanti di forze politiche che al momento sono alla guida del Paese. Non ha infatti partecipato al voto il gruppo di Fratelli d'Italia che ha presentato sulla stessa vicenda una propria mozione, primo firmatario Francesco Torselli poi respinta dall'Aula. La violenza si condanna sempre senza se e senza madda a qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo e in realtà è arrivato un atto in cui addirittura laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si reggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti, dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa, a chiamare in causa il Governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime, dispiace. C'era comunque nell'atto, riconosco nell'atto del Partito di maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ce la siamo sentiti di votare contrari. Però non era l'atto che aveva chiesto il Presidente Mazzeo. Elena Meini, il cui gruppo consigliare ha votato a favore della mozione presentata da Fratelli d'Italia, ha parlato di strumentalizzazione politica della vicenda. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, un fatto grave. Dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengono più in Toscana e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere, qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni. Aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere. Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzaglio Ciampi a Palazzo del Pegaso a Firenze, la mostra dell'artista lucchese Marco Saviozzi si intitola Nostalgia del Futuro, a tagliare il nastro è stato Marco Casucci, vicepresidente dell'Assemblea Toscana. Con lui Maria Augusta Possenti, l'assessore regionale Stefano Baccelli e l'artista. È sempre stata nostra intenzione fin dall'inizio di questa consigliatura di poter riempire queste stanze di mostre di qualità. Qui si parte, una mostra di qualità, Nostalgia del Futuro, già dice molto, è una riproposizione in forme moderne, un po' anche di quella che è la nostra tradizione pittorica, la forza del colore, l'efficacia della linea. Mi piace molto, lo dico proprio con il cuore, è una mostra importante che ci trasmette anche la sensazione veramente del piacere di essere toscani. Anche rivisitare i personaggi del nostro risorgimento, ma anche l'ombra del Papa Nero, è una mostra che stimola dal punto di vista intellettivo e dell'occhio. Quindi penso grandissimo Marco Saviozzi, è veramente una bella mostra per delle stanze che continuano ad ospitare delle mostre di qualità. Una cultura visiva, quella di Marco Saviozzi, che si è alimentata con istanze cosmopolite multidisciplinari che spaziano dall'architettura al fumetto, dal cinema alla pittura pop, con punte di attenzione massima su fenomeni come il postmoderno e le dinamiche connesse alle teorie dei mezzi di comunicazione di massa. Saviozzi, uno degli artisti più originali nell'attuale panorama dell'arte toscana. È una raccolta negli ultimi 30 anni circa di mostre e di fiere dell'arte. Quello che ho trovato poi in realtà in studio abbiamo deciso con Alessandro Romanini e Maria Possenti di fare un misto fra le cose toscane tipo Dante, tipo l'omaggio al Pontormo e poi quello che io di solito dipingo, cioè cinema, moda e eventi vari in generale. E quindi sono 27 quadri con questo tema. Parola chiave della mostra, essenzialità. Credo appunto che per definire l'opera di Marco Saviozzi questo termine sia il più appropriato perché il procedimento che Saviozzi segue per riguadagnare alla pittura i soggetti che trae come dalla tradizione dell'arte pop in cui lui si inserisce dal flusso della comunicazione di massa è proprio quello di un'operazione di sintesi, cioè di esprimere il suo soggetto delineandone soltanto i caratteri essenziali e riconoscibili, quelli necessari e indispensabili per riconoscerlo ed eliminando tutto il resto, diciamo. Questo è quello che Saviozzi si propone di fare e che poi anche con l'aiuto del colore benché non essenziale l'aiuto del colore perché le sue opere funzionano anche quando sono riprodotte in bianco e nero il che ci fa capire che l'impianto di base è solido e appunto ricercano proprio questo fine di andare all'essenziale delle cose che poi è anche un tratto veramente del suo carattere come persona. La mostra di Marco Saviozzi sarà visitabile fino al 4 marzo con il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13. Presentato al Media Center Sassoli in Consiglio regionale, Certaldo Arte 23, il cartellone delle mostre che per tutto l'anno accoglierà i visitatori di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. L'obiettivo è quello di offrire un punto di vista nuovo sull'arte contemporanea che comprende diverse tecniche espressive. Certaldo in questi anni è diventata sempre più centrale rispetto a iniziativi, eventi che la rendono oltre il borgo rinomato, bello, riconosciuto anche fuori dai confini toscani, uno dei borghi più belli della Toscana anche luogo di arte, luogo di cultura, luogo che sa tenere insieme la tradizione ma anche l'innovazione in questi settori. Sono felice insieme al Presidente Sostegni, insieme al Sindaco Cucini, all'assessore Conforti di poter oggi presentare Certaldo Arte 2023 ed è qualcosa di molto bello perché porta anche tante tante innovazioni fuori dai confini del nostro territorio. La prima delle mostre sarà Art is Easy, Giuseppe Chiari tracce di un percorso creativo. L'esposizione, realizzata in collaborazione con l'archivio Giuseppe e Victoria Chiari e la Galleria d'Arte Nozzoli, sarà visitabile fino al 12 aprile. Fusioni di luce è invece il titolo della mostra dedicata alle opere pittoriche di Alfred Milot e alle sculture in acciaio specchiato di Elidon Gigia, che saranno esposte rispettivamente a Palazzo Pretorio e negli angoli più suggestivi del centro storico di Certaldo Alto dal 22 aprile fino al 10 settembre. Conclude il cartellone Giacomo Piussi, l'Ordine delle cose, viaggio in Italia. L'esposizione dell'artista udinese sarà visitabile a Palazzo Pretorio dal 23 settembre al 28 gennaio 2024. Le mostre hanno sempre contraddistinto la nostra programmazione culturale. Palazzo Pretorio è un centro espositivo ormai di fama regionale e nazionale e quindi quest'anno proponiamo degli artisti di fama internazionale con un bel livello e tra l'altro anche con una sperimentazione che già un po' d'anni fa fu fatta e che riproponiamo quest'anno perché la mostra, diciamo, centrale di questo straordinario calendario invaderà un po' tutto il borgo. Certaldo Arte 23 è un'occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra Certaldo e l'arte contemporanea a Palazzo Pretorio. Sì, questo è proprio un cartellone che mette insieme questi due aspetti, borgo di Certaldo, Palazzo Pretorio, il centro storico di Certaldo è mai conosciuto a livello internazionale per Boccaccio perché è proprio tipico della toscanità insieme all'arte contemporanea che deve trovare anche in una regione come la Toscana che in genere guarda la propria storia ma invece deve sempre più guardare a quelli che sono gli artisti attuali, chi fa arte in questo momento per essere una fucina di cultura. Le mostre patrocinate dalla presidenza del Consiglio regionale della Toscana sono a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Certaldo con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent.